Oggi vedremo la seconda maglia dell'Arsenal per la stagione 22-23 in versione FUN, quella dedicata ai tifosi. La seconda maglia dell'Arsenal per la stagione 2022-23 è nera, con loghi color oro metallizzato e tre strisce alti sulle spalle di colore grigio. A completare il look, la maglia presenta una lieve stampa geometrica con forme astratte sul davanti e sulle maniche. Se si guarda con attenzione però, la stampa non è completamente astratta, bensì si possono notare i deboli contorni delle lettere A, F e C che si riferiscono al nome completo del club, Arsenal Football Club. Avete anche notato che lo stema del club è stato invece sostituito dal logo dei cannoni Gunners, un dettaglio di design che abbiamo visto implementato per la prima volta sulla maglia da trasferta 2021-22. Questa è una delle mie maglie favorite per la stagione prossima. Avevo già visto la versione player che trovate qui sopra e anche la versione FUN conferma la mia impressione. Nella mia classifica prende 5 stelle. È bellissima, dovete averla, assolutamente. Peraltro è fatta veramente molto bene e non ha niente, tra virgolette, di sbagliato. È perfetta nei colori, perfetta nelle cuciture, ottimo comfort. Ha un prezzo veramente molto basso che trovate qui sopra. E vi ricordo che in descrizione ci sono dei link per avere dei coupon, per avere un coupon da 5 dollari, quindi il prezzo diminuisce ulteriormente. Ora, prima di lasciarvi, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale per avere altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FUN. e a 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 a.